Diffondere, unire, condividere, questi alcuni dei nostri obiettivi da sempre e anche in tale ottica abbiamo realizzato il Trieste Coffee Experts. Trieste Coffee Experts è stato un appuntamento pieno di contenuti e sarebbe stato un peccato non approfittarne per rendere tutti i contenuti disponibili. Con i video questo sarà possibile. A tale riguardo è giusto ringraziare i nostri amici relatori e i tanti partner, le aziende che da sempre ci supportano in tutte le nostre iniziative, in tutti i nostri progetti. I video che vedrete sono stati realizzati da numerosi esperti del mondo del caffè che hanno messo a disposizione la loro competenza d'esperienza con l'obiettivo di far accrescere e diffondere la cultura dell'espresso di qualità.